Bentornati su MyFootballJersey! Oggi vediamo una maglia speciale del Manchester City, quella dedicata al nuovo anno cinese in edizione FAN! Manchester City e Puma hanno lanciato la nuovissima collezione dedicata al nuovo anno cinese, tra cui una maglia unica in edizione limitata. Il 2023 è l'anno del coniglio d'acqua. Inizia il 22 gennaio 2023, capodanno cinese, e termina il 9 febbraio 2024. Il segno del coniglio è un simbolo di longevità, pace e prosperità nella cultura cinese. La maglia da calcio cinese di Puma, Manchester City 22-23, ha un aspetto elegante. combina un blu intenso con i loghi dorati. Il design della maglia si ispira alla superficie della Luna, a rendere omaggio alla missione di successo della Lunar Rover cinese nel 2013. Wow! Secondo me è bellissima! Inizio subito col dire che nella mia classifica questa prende 5 stelle. Veramente bella questa sfumatura e questa rifinitura in oro, ve la consiglio! Il costo lo vedete qui sopra? Cosa altro aggiungere se non che è veramente bassissimo? Peraltro questa è arrivata in 12 giorni, quasi impossibile! In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora prima di lasciarvi la parte finale io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale per far crescere il nostro, la nostra community. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Così ancheUNA! Per allora ci vediamo Buck F Homer! Ciao, ciao! Ciao, ciao fellEEEE8!!! ον eh1